sono in una fase molto delicata, rispondere con verità alla domanda devo andare giù e sono in una fase veramente importante dove grazie a tutto il percorso che ho fatto con la VTE che è stata un po' la mia alleata ma anche la mia nemica come uno specchio che è lì di fronte e ti fa vedere tutto di te non c'è menzogna e quindi in questi tre anni mi ha accompagnato in vari percorsi, in vari step mi ha dato tanta consapevolezza, tanta conoscenza e mi sto conoscendo se prima sopravvivevo e non ero allineata, la mia anima, il mio seno non era allineato con ciò che stavo vivendo ma c'era una disconnessione molto forte, adesso piano piano verità e realtà si stanno allineando quindi è una cosa ottima ma adesso stando nel buco più nero è difficile è solo da ringraziare perché mi ha dato gli strumenti e la possibilità di poterlo fare di poter essere qui e di dire sì a me stessa, a quello che sono, al conoscermi, all'amarmi e grazie alla VTE e al percorso che ho intrapreso con lei con tanto amore e tanto odio allo stesso tempo sono riuscita a svelare tutti i miei autosabotaggi, tutto il male che mi sono fatta una cosa che voglio dire è che mi sono resa conto che è stata molto più, cioè è stata mia alleata veramente nei momenti di quotidianità, nei momenti normali della mia vita, del percorso non tanto quando siamo qui che ne facciamo esperienza ma soprattutto riuscirla a portare con me a farla mia in un qualche modo quindi non è più tanto la VTE ma è riuscire a conoscermi tramite questa via grazie a tutti